ciao a tutti vi voglio raccontare del mio colpo di fulmine nei confronti di un metodo per batteria questo qua la batteria jets livello zero perché mi sono mi sono innamorato di questo di questo metodo perché ai canonici esercizi di tecnica di solfeggio stefano bagnoli che uno scopo certo io è un didatta particolarmente sensibile dal mio punto di vista è intelligente a questo metodo stefano affianca dicevo all'aspetto puramente tecnico affianca una spiegazione un percorso parallelo che attribuisce a chi lo studia una consapevolezza particolare rispetto a quello che è la pulsazione jets spiega perché il jazz suona in un certo modo perché il jazz viene suonato in un certo modo quello che c'è dietro è un po come mi viene da pensare come imparare a guidare la macchina imparare a sapere come funziona il motore che c'è dentro la macchina io personalmente ho constatato che durante l'esecuzione degli esercizi avere in qualche modo una qualche infarinatura di che cosa significa interpretare una una battito d'algezza del suono del del ritmo della storia anche aiuta decisamente molto e favorisce l'apprendimento in maniera salutare e pertanto consiglio a tutti quanti desiderano avvicinarsi alla parte di al jazz di tenere presente questa 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 opportunità è